Minacce al sindaco di Polla, offese al primo cittadino in un manifesto affisso pubblicamente, interruzione di pubblico servizio. Di queste accuse dovrà rispondere in tribunale un imprenditore di Polla. L'uomo è accusato di aver minacciato il primo cittadino di Polla appunto e di averlo denigrato con un manifesto affisso negli spazi pubblici del paese. Con i suoi atteggiamenti, sempre stando all'accusa, avrebbe anche interrotto il pubblico servizio. I fatti risalgono a circa anni fa e la notizia è emersa in seguito alla delibera del comune di Polla di volersi costituire parte civile nel procedimento penale. Per questo motivo è stato nominato l'avvocato Camillo Celebrano. L'udienza con citazione diretta si è tenuta ieri mattina nel tribunale di Lago Negro. Per la sostituzione del giudice, la prossima udienza è stata fissata nei prossimi mesi. Le motivazioni di questi gesti da parte dell'imprenditore sarebbero collegate a delle pratiche e autorizzazioni per dei lavori da effettuare.